Ma no, io appena rallento No, ma ci fermiamo, dai Vado Vado Albero! 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 Ahia! Qualcosa! C'era qualcosa lì! No no, vai, vai, vai! Oh, che ripidino, godo, godo! Dovete avvisare qua! Cattrottola! Anche perché se vi perdo non vedo più un cazzo eh! Devo cambiare lampada, questa qua non mi soddisfa! Cattrottola! 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 Voi siete pazzi, ste fuori di testa! anche sull'antena ci da fare un lavoro pietra pietre ecco qua, qua Andre guarda un po', bisogna tagliare questo qua Andre, questo qua tagliamo questo, facciamo la linea dritta e ci arrivi qua questo è il cazzo giusto? Andre, ci arrivi proprio qua chiudiamo lì scusate un attimo, questo qua è il cazzo ripido? adesso qua inizia ma se vado a sinistra qua? sì, prova, prova no, cazzo dice ah no, pensavo fosse il bivio che dicevi prima sì, non c'è niente anzi c'era una spondina guarda che si è distrutta adesso bisogna fare la linea qua dritta vada ciao maricone ciao maricone questa è la curva cazzo cazzo ma una dietro un'altra qua non vedo più un cazzo non vedo una micchia che cazzo parte io me la faccio così non vedo più un cazzo qua qua se non vai alla sinistra guarda la morte corra non vedo più non vedo più quelle ultime curve ci ha le ultime curve lì io l'albero ho preso occhio occhio vado a fare gli scotti che sono preso l'albero a sinistra non vedo più non vedo più non vedo più